In città si respira ogni minuto di più l'aria dell'antica Fanon Fortune con la manifestazione che sta entrando nel cuore dei fanesi e dei turisti che già dal primo giorno dell'inaugurazione si sono immersi in usi e costumi di oltre 2000 anni fa. Domani, giovedì 12 luglio, sarà la giornata dedicata ai più piccoli con la Fano dei Cesarini organizzata dal Comitato Genitori Sant'Orso. I baby romani, divisi ovviamente anche loro in base alle fazioni di appartenenza e con a capo l'auriga la più piccola e quella del cinghiale di ben due anni, si ritroveranno in piazza 20 settembre alle 18 e da lì partiranno per una sfilata che li condurrà al pincio. Ad attendere i Cesarini e i loro accompagnatori ci saranno il gruppo storico Julia Fanestris e lì il gruppo Simma Chia, Ellenon, che faranno immergere adulti e bambini nella meraviglia dell'antica Roma e della Grecia antica con didattiche e approfondimenti. Alle 19.30 via ai primi giochi con le sabbie della fortuna e dalle 20.15 la tanto attesa e divertente Corsa delle Bighette. Alla colonia Julia Fanestris quest'anno il compito di ricreare una domus romana ed il Macellum, l'antico mercato. Allora, fra poche ore, adesso qui i preparativi sono ancora in corso, ma si trasformerà in un vero mercato all'epoca di Romagna. Sì, siamo quasi pronti, stiamo allestendo gli ultimi banchi, faremo rivivere quello che era un Macellum, ovvero l'antico mercato di Fano, un Fortuna e quindi potremmo vedere quello che due mila anni fa si poteva appunto assistere passeggiando nel Macellum, acquistando merci, avere delle mercanzie più varie e addirittura anche le mercanzie di uomini, quindi vendita degli schiavi. Qui verrà ricreato il cortile di una casa romana e su questo cortile potremmo vedere a lato tutti i triclini, quindi con i romani che erano sdraiati sui triclini e avevano le ancelle che portavano la frutta e vari cibi. Qui invece all'interno del portico avremo degli spettacoli, avremo la danza del ventre e avremo una suonatrice di arpa. Quindi ecco, durante le serate di giovedì e di venerdì si alterneranno questi spettacoli e anche il sabato, che il sabato finiremo un po' prima perché poi c'è lo spettacolo. Ecco, questo un po' è il programma all'interno della Domus. Però la Colonia sarà impegnata anche in uno spettacolo in esterna da questa Domus? Sì, faremo uno spettacolo proprio sotto l'arco d'Augusto, uno spettacolo sull'importanza del fuoco nell'antica Roma, uno spettacolo arricchito con la danza, con la recitazione e con il racconto del mito di Vulcano, che era il dio del fuoco. Tutto questo il sabato a che ora? Tutto questo avverrà il sabato intorno alle 23. Della Colonia Iulia Panestris e della Simachia Eleon.